Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui al secondo caffè della settimana. Oggi il caffè lo prendiamo sul tema della comunicazione. Comunicazione perché è determinante oggi nel mondo in cui viviamo, in un momento di profondo cambiamento dove parlavamo proprio ieri, in cui ci sono delle difficoltà, ci sono proprio delle periferie, queste periferie le abbiamo proprio intorno a noi, molte volte anche proprio dentro di noi. A volte però perdiamo proprio di vista anche l'essenziale e quindi il dialogo sincero e rispettoso con noi stessi e con gli altri, il gusto della relazione del reale. A volte anche ci manca un po' di chiarezza nel dialogo. La globalizzazione, la velocità con cui le informazioni oggi si scambiano. Gli strumenti digitali, se pensiamo quanto è successo negli ultimi dieci anni con l'utilizzo dei social network, in dieci anni è stato un cambiamento radicale, molto profondo nell'utilizzo della comunicazione, nel trasferire know-how, nel copartecipare e trasmettere esperienze di momenti attraverso in questo caso questi dispositivi. Tanti comportamenti sono cambiati, like or not, piace o no, come dicono negli Stati Uniti. Non possiamo però mai dimenticare che al centro di ogni singolo interscambio di comunicazione e di relazione c'è la persona, c'è l'essenza di chi siamo noi. In questo periodo, come citavo prima, di periferia esistenziale, dove le difficoltà che le imprese e le persone stiamo attraversando di relazionarsi, da dove partire? Da dove ricominciare? Quali sono le opportunità che i nuovi strumenti, i nuovi metodi di relazionarsi ci offrono? E questo lo chiediamo e ringrazio per la partecipazione a Miriam, grazie di essere qui con noi. Miriam è una consulente e formatrice di marketing digitali da tanti, partitacistatissime imprese, ti occupi di web marketing dal 2000, scrivi anche per oeppli editori, quindi diverse in una colana sul tema web marketing, in passato hai lavorato per una delle imprese più importanti in Italia legata al web marketing e poi hai deciso di aprirti, quindi andare per conto tuo, quindi come consulente. Miriam, in questo profondo cambiamento, che opportunità ci sono per le imprese e soprattutto per le persone nel comunicare e utilizzare i nuovi strumenti. Intanto buon pomeriggio, grazie al meeting, grazie a Santiago per l'invito. Insomma il tema non è esattamente dei più semplici, come consulente di marketing digitale mi trovo a ragionare spesso su come il digitale può aiutare le imprese soprattutto a trovare nuovi mercati, a rendere più soddisfatti i propri clienti, ma il tema di oggi è ancora più alto perché mettiamo a centro l'uomo. E allora qualche mese fa, ormai sì, perché all'inizio di giugno Papa Francesco, insomma c'è uno scritto suo che si può ritrovare in internet dove ragiona proprio di come la comunicazione, ma internet in particolare, può fare molto per le periferie, dice una cosa che è molto bella, che è molto intensa, e cioè che la comunicazione è una conquista più umana che tecnologica. Internet in particolare, io sono un umanista perché io arrivo da una laurea in lingue e quindi per me il marketing e il digitale sono arrivati dopo, sono stati un altro personaggio di un certo rilievo, insomma un certo Steve Jobs raccontava di come la sua carriera, la sua storia imperditoriale fosse ormai nota citazione, nata dall'unire diversi puntini, per me molto più in piccolo è stato lo stesso perché con una laurea in lingue poi ho capito che il digitale sarebbe stato un'altra modalità per mettere insieme, per far entrare in contatto persone dentro e fuori dalle aziende. E proprio da questo centro sul fatto che naturalmente c'è della tecnologia, perché c'è della tecnologia, ma il vero punto e la vera opportunità che c'è è quella di riuscire a mettere in contatto delle persone, perché dietro ognuno di questi c'è una faccia, c'è un nome, c'è un cognome, c'è una persona che ha in quel momento bisogno di un'informazione, vuole imparare a fare qualcosa, quindi guarda un video e per l'azienda c'è la grandissima opportunità di soddisfare questo bisogno, quindi di dare proprio quell'informazione e di partecipare a quella che viene chiamata conversazione, quindi ho due o più poli che conversano. Il tema del meeting, quindi il tema delle periferie, ragionando sull'incontro di oggi, mi sono anche detta che per come è fatta la rete, sappiamo che la periferia per definizione è ciò che è distante dal centro, nelle città la periferia è ciò che è distante dal centro, nelle nostre città la periferia è ciò che è distante dal centro storico, ma per come è fatta internet in verità non ha un centro, sono tanti centri e quindi mi piace ragionare anche sul fatto che potrebbe rovesciare l'idea di avere un centro delle periferie. Qualche settimana fa eravamo in vacanza a Matera e lì c'è una ragazza che è partita con il suo piccolo negozietto e adesso vende online prodotti tipici della sua terra. Non ti fa arrivare a casa solo un vasetto ma ciò che la differenzia è il fatto di raccontarti ogni volta, ha proprio il piacere di accoglierti e di spiegarti quello che puoi andare a vedere, quello che puoi fare. Quindi da una periferia, diciamo geografica in questo caso, ma ce ne sono tanti di esempi, l'opportunità è quella di poter uscire dall'isolamento grazie a internet perché tutto sommato quello che ha fatto la differenza nel suo caso è stato proprio poter avere un e-commerce, poter avere una rete, un sistema di comunicazioni che la portassero al centro, al centro che vuol dire a casa di ognuno di noi. Dunque anche l'opportunità più grande che secondo me c'è in questo momento per tante imprese che poi sono quelle che incontro ogni giorno è quello di utilizzare questi strumenti per uscire dalla periferia che senza nasconderlo la crisi economica ha creato per molti. Quindi un meccanismo di riportarsi davvero al centro. Per me nella mia storia personale, dopo appunto dieci anni in un'agenzia, internet è stata anche la possibilità di togliermi da una periferia, diciamo di una routine quotidiana che mi teneva lontana dalla mia casa, dai miei affetti per la maggior parte del tempo. E quindi ancora una volta il poter accorciare le distanze. Quello che è fondamentale qui è capire comunque che dietro ogni tecnologia ci sono poi delle persone che la utilizzano. Questo è il vero passaggio. Oggi si parla anche di condivisione di conoscenza, quindi il comunicare la conoscenza attraverso la rete è qualcosa che mi può danneggiare la mia impresa, il mio sapere o lo può arricchire una copartecipazione collettiva attraverso la tecnologia, attraverso internet? Diciamo che non abbiamo scelta perché c'è talmente tanta ricchezza di conoscenze, c'è talmente tanta velocità nel cambiamento che o condividiamo o ci mancherà comunque un pezzo. Nel senso che c'è un famoso titolo ormai di un libro che dice che la persona più intelligente nella stanza è la stanza. Perché? Perché nessuno di noi può sapere tutto quello che c'è da sapere su un certo argomento. Anche l'iper specialista e poi potremmo aprire un enorme parentesi su quanto sia efficace essere oggi iper specialisti, sapere una sola cosa e saperla benissimo, però una sola in verticale. Questo sarebbe tutto un altro filone di analisi. C'è troppo da sapere per poter sapere tutto e non solo immagazzinare delle conoscenze ma anche farle diventare azioni. Quindi naturalmente ci sono dei rischi, certo, però l'impresa che si chiude così come l'individuo che si chiude taglia l'albero su cui è seduto perché non ha ossigeno, non ha modo di imparare dagli altri e naturalmente in un'economia di rete e di dono se non dono ricevo. Tu appunto lavori da sola, ma veramente nel tuo lavorare, nel tuo anche evolversi e nella conoscenza degli strumenti attuali, sei da sola? No, allora l'essere da solo io distinguerei quello che è uno status amministrativo barra fiscale, sono temi, potrei non aver usato esattamente la parola giusta, da non lavorare in una struttura fissa. Quindi sta cambiando radicalmente il modo, il metodo di lavorare oggi. Ma sempre di più quello che succede è che anche, io porto l'esempio dell'agenzia di comunicazione, quindi strutture che sono fisse, che hanno una sede, che hanno una serie di metri quadri di scrivanie, adottano modelli liquidi di composizione dei team. Proprio perché non puoi sapere tutto quello che c'è da sapere, a meno che di essere molto grandi e spesso poco efficienti, nella maggior parte dei casi peschi volta per volta il tipo di competenza di cui hai bisogno. E questo è quello che io faccio di solito, quindi ho una rete di persone con cui collaboro e a seconda del progetto mixo le competenze migliori per il cliente in quel momento. Quindi va anche ridefinito un po' che cosa significa avere dei colleghi. Non è necessariamente essere seduti nella scrivania a fianco, può essere per esempio, a me capita spesso di andare a lavorare presso altre imprese dove dico mi ospitate per mezza giornata perché sono a Milano e ho mezza giornata in cui posso lavorare e in quel momento c'è qualcuno che addirittura lo coglie come un'opportunità, quindi un momento di scambio in cui l'apertura diventa ancora più ricca perché posso portare dentro qualcuno che ha un'esperienza ed è contaminato da spunti, esperienze, idee, una freschezza che magari chi è dentro 9-6 ha salutato qualche anno fa. Grazie Milan per il tuo contributo, grazie per quello che stai facendo nel tuo quotidiano. Effettivamente, come dicevamo prima, c'è un cambiamento. Sta a noi decidere che tipo di azione fare, che tipo di azione per aprirci, per iniziare veramente ad aprire in un dialogo sincero, franco, disponibile proprio a trasferire anche conoscenze, come dicevi prima, il fatto di lavorare, andare a Milano, trovare un luogo per qualche ora e contaminarti, nel buon senso del termine, di altri pensieri, di altri ragazzi, di altre persone, è un contributo continuo per se stesso e per gli altri. Esistono persone che di fronte poi a queste provocazioni rispondono al punto tale che si inventano un lavoro, si creano una nuova impresa, in questo caso raccogliendo dati sportivi per consentire alle persone di poter seguire eventi sportivi da lontano. Daniele, tu stai facendo la tua nuova impresa, la tua start-up, raccontaci un po' da dove sei partito e di cosa si tratta. Grazie, grazie innanzitutto per il vostro tempo, ringrazio Santiago e il meeting per l'invito che ho assolutamente accettato di buon grado, vista l'importanza anche del momento che ci vede tutti insomma protagonisti. La nostra attività è nata sia per caso ma anche per un'attitudine professionale, cioè c'eravamo occupati in passato per grandi federazioni sportive di distribuire le informazioni in tempo reale per i grandi club, i grandi eventi in particolare di calcio e c'era appunto sorto un dubbio che probabilmente questo tipo di tecnologia poteva abilitare una comunicazione fra persone che non sono parte dello sport business. quindi abbiamo cercato di democratizzare un processo che è quello appunto di raccogliere l'informazione, distribuirla e metterlo nelle mani di chi con passione racconta e vive ogni domenica le partite o gli incontri di calcio in periferia, appunto nei piccoli campi, quelli fatti di terra, quelli curati magari dal volontario che fa il magazziniere nel weekend e poi appunto durante la partita da una mano in campo. Quindi insomma abbiamo cercato di avvicinarci a una periferia in questo caso in termini di risalto mediatico che invece ha trovato nella rete uno strumento potente per avvicinare le persone, gli appassionati, gli sportivi stessi a raccontare e raccontarsi in maniera molto sincera, molto vera. Soprattutto durante appunto un momento che vede spesso e volentieri diciamo lo sport non come un vettore di messaggi positivi. Invece in questo modo sembra che ci sia l'opportunità per chi appunto lo fa con passione, con vivacità, quella di raccontare dello sport come un valore positivo. Per quanto poi invece riguarda il tema più ampio dell'innovazione, quindi considerare il tema del cambiamento e quindi anche come la periferia può diventare un'opportunità, mi interessava condividere alla prospettiva che spesso e volentieri si ha dei grandi hub di tecnologia o commerciali come Milano e Roma eccetera in Italia, quando invece in realtà probabilmente le periferie grazie appunto alla rete possono rappresentare, periferie o geografiche ovviamente, non certo di talenti, possono invece rappresentare un'occasione per far ripartire l'Italia perché insomma reputo che anche molte delle energie e dei talenti che si esprimono o non hanno ancora la possibilità di esprimersi sul proprio territorio vadano in qualche modo incoraggiati e partendo poi appunto dalle periferie geografiche, perché solo di geografia si tratta, penso si possa dare una mano anche a ricostruire quei tanti tasselli che l'Italia ancora mancano da mettere assieme. Come hai fatto a, raccontaci un po', cioè tu hai avuto un'idea no? Come hai fatto a trasformare quest'idea in un'impresa? Cioè chi ti ascolta? C'è qualcuno che ti aiuta? Hai creato un team di lavoro? Come hai fatto a trovarlo? Raccontaci un po' in dettaglio come le difficoltà che stai affrontando. Devo dire che l'idea è venuta lavorando insieme a una persona che è con me da sette anni ormai, insomma ho contratto matrimonio prima con lui e poi con mia moglie e la cosa importante non è solo aver trovato la persona giusta con la quale credere, superare enormi difficoltà anche finanziarie perché insomma non nascondo le difficoltà che fare impresa soprattutto all'inizio celano e al tempo stesso ho avuto la fortuna anche di ricevere i sonori schiaffi da interlocutori che insomma ho incontrato durante gli anni con i quali avevo necessità di confrontarmi sia per una questione di business opportunities, di competenze che col tempo ho cercato di accumulare e imparare da queste diciamo di queste circostanze e devo essere sincero ho anche voluto la fortuna di trovare persone molto brillanti che mi hanno fatto riflettere su molte delle azioni e degli errori compiuti ovviamente durante il percorso e fra questi anche appunto l'attuale investitore insomma che nella nostra azienda ha deciso di crederci anche iniettando non solo fiducia ma anche liquidità. Quindi anche in questo caso a parte chiaramente il fattore economico in sé l'elemento determinante sono le persone? Assolutamente perché senza non hai sostanzialmente la capacità di sopravvivere agli eventi che sono davvero critici perché da soli non si va da nessuna parte cioè il team è l'unica risorsa vera che un'azienda può mettere in campo e con la quale può effettivamente avere la certezza che quella difficoltà verrà superata non la certezza che il risultato si ha raggiunto perché chiaramente quello poi spesso è il mercato che lo determina però è la certezza di affrontare le difficoltà insieme a qualcuno che ha la tua stessa passione la tua stessa voglia di aiutare e offrire solidarietà. E il prossimo futuro? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è riuscire a rendere l'azienda sana in termini diciamo di sostenibilità di crescita che possa avere anche una ricaduta in termini diciamo territoriali quindi anche cercare di occupare quante più persone possibili nei territori che diciamo dell'occupazione hanno una ricaduta non solo economica ma anche sociale e poi nel lungo periodo mi auguro insomma possa esserci lo spazio per utilizzare quanto si è imparato si sta imparando per aiutare magari persone più giovani di me a condividere altre esperienze a fare altri errori e quindi insomma creare un piccolo bacino di persone che hanno voglia di scommettere di trovare le soluzioni ai problemi di ogni giorno. Le risorse economiche che citavi prima no? Quindi hai trovato un partner che sta finanziando sopportando comunque il rischio d'impresa? Yes. Come hai fatto a trovarlo? Eh ottima domanda. Hai girato con cento po' a tutta l'Italia fuori? Comunque sei un ragazzo molto giovane no? Quindi hai un'idea, hai un paper cioè avrai avuto un PPT, un documento, un'idea e alcuni casi un prototipo quindi vai lì, li presenti la tua idea e qualcuno ti dà i soldi? Magari. Diciamo che siamo stati fortunati perché abbiamo preso parte a qualsiasi iniziativa ci fosse già insomma dal 2009, quindi abbiamo fatto una sorta di palestra perché nessuno di noi aveva un background sul fundraising e quindi abbiamo dovuto in qualche modo imparare prima noi il lessico, quelle che sono le modalità per presentarsi in maniera corretta a chi investe non solo da un punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista del contributo industriale e il percorso è stato veramente ad ostacoli, davvero io mi sono messo in prima battuta su questa attività e ho imparato tantissimo in termini di cosa c'è da fare e cosa non c'è da fare e l'incontro è venuto non come dire a un colpo di fulmine ma col tempo, cioè diciamo che c'è stata un'attenzione reciproca rispetto alle evoluzioni del team e dall'altra parte l'evoluzione in termini diciamo di obiettivi che ci ha permesso di avvicinarci insomma con come un corteggiamento per virgolette insomma è necessario conoscere bene dall'altra parte il soggetto col quale ha intenzione di creare una bella relazione perché diciamo l'aspetto finanziario è solo l'occasione non è diciamo sostanzialmente il fine, è uno strumento che permette di creare nuove relazioni anche da un punto di vista umano e aiuteranno a prescindere da come l'azienda insomma muoverà i prossimi passi. Grazie Daniele per quello che ci stai facendo. Mi porto a casa quello che dicevi alla fine cioè il fare esperienza, avere la capacità, la disponibilità e la non paura di mettersi in gioco, di sbagliare perché quello che hai fatto, il percorso ostacoli che citavi prima per rendere credibile e presentabile la tua business idea hai dovuto comunque sbagliare, sbattere la testa veramente contro la realtà che ti provocava, gli errori che hai fatto migliorandoci al punto tale che hai trovato poi qualcuno che hai dato fiducia. quindi non bisogna assolutamente avere questi errori no molte volte di di mettersi in gioco, mettersi in disposizione in apertura come tu citavi prima Miriam, quindi in co-working quindi arricchendo la propria persona, arricchendo il proprio sapere, arricchendo il proprio team in questo caso. Andrea Prandi grazie di essere qui con noi, lavori da un po' di tempo nella più antica società europea nel settore dell'energia, Edison come responsabile delle comunicazioni esterne ma in passato poi hai lavorato con grande grande imprese come Ericsson, Walt Disney, sei stato presidente anche dei Ferpi, hai dato una grande contributo l'Italia per l'agenda digitale e la promozione del digitale in Italia ancora oggi, mi sta dando una mano, ti volevo porre questa domanda, è cambiato negli ultimi anni radicalmente l'utilizzo della comunicazione attraverso come ho detto prima dei social network che ci permettono appunto di creare un dialogo diretto fra le persone e fra imprese, perché oggi viviamo un momento di grande resistenza nel fare sistema, perché oggi troviamo ancora grande difficoltà nelle persone nell'utilizzo di questi strumenti nel modo adeguato, cioè nella consapevolezza che questi sono strumenti, non è vita, c'è l'incontro reale da cui partiamo e da cui dobbiamo sicuramente basarci ma questi strumenti o i social network, tutto quello che accade oggi nella comunicazione digitale possono essere sicuramente dei amplificatori, ma ancora oggi parliamo del digital divide, parliamo oggi anche dell'educazione verso il digitale, queste opportunità che le imprese e le persone si stanno perdendo, perché? Io mi sono occupato personalmente di parlare col direttore generale della RAI durante il periodo a cui accennavi, in cui ho lavorato nell'unità di missione per l'agenda digitale come volontario e cercando di convincere la RAI a giocare un po' il ruolo che negli anni 50 aveva giocato per l'alfabetizzazione del paese. Devo dire la verità, non è facilissimo convincere, come al solito i meccanismi del mercato, l'audience questo, condizionano moltissimo anche le programmazioni, i progetti della RAI, così per assurdo, una cosa che sembra semplice da fare, perché basta invadere di tecnologia, di digitale, far sì che nonno libero usi uno smartphone facendosi aiutare dalla nipote per prenotare un viaggio e già la gente non se ne accorge, non è che ti crolla l'audience o una cosa del genere, però abbiamo fatto tutto un esercizio che almeno io personalmente mi sono occupato di questo essendo un esperto di comunicazione, io spero prima o poi che la RAI dia un segnale in questo senso, noi abbiamo bisogno di quello perché poi alla fine milioni di persone vanno in quella direzione lì, allora siccome le periferie c'è poco da fare, sono ancora molto indietro, abbiamo lavorato sul tema dell'anagrafe, qui ogni comune si fa l'anagrafe per conto suo, anche lì c'è bisogno di centralizzare un po', e invece c'è anche un fatto politico, si parlava, insomma tutto il contrario, io dico che bisogna centralizzare fino a qualche tempo fa si diceva tutto il contrario, allora il dato non può che essere al centro, questo è un po' il perché, perché se poi le periferie lo utilizzano il dato, però il dato è un patrimonio del paese, dello Stato, questo è un po' il tema. Ora, i temi sono altri, noi come Edison abbiamo fatto un'esperienza molto bella e pratica, e mi riconnetto, quindi le difficoltà sono queste, scusa, l'ultimo pezzo per rispondere alla tua domanda, ma dico una cosa che sanno tutti, cioè è un problema culturale del nostro paese che deriva dalla nostra educazione, non ci fidiamo degli altri e quindi mi sono occupato negli ultimi due o tre anni di start up e vedo proprio che è fatica a costruire il team di cui parlava lui, perché non si fidano tra di loro, non si fidano di mettere in gioco una parte della proprio, di dare una quota della loro azienda nascente che è un'azienda che nasce fondamentalmente, non vale niente della prima fase, l'importante è portare dentro persone che portano valore, allora se mi entra un finanziatore importante, se mi entra una persona che dà un valore aggiunto sulla parte commerciale, sulla parte finanza, questo bisogna avere il coraggio anche di mettersi in gioco. Il problema di fiducia deriva dal fatto che imbrogliamo, cioè c'è poco da fare, a scuola si imbroglia, non ci si fida e dopo tutti sanno che vince il più furbo e quindi siamo tutti, pensiamo che gli altri siano più furbi da noi e che abbiano come unico fine quello di fregarci, cioè scusa è banale quello che dico però siccome adesso ci sono, l'ultimo anno abbiamo fatto con Edison un progetto che si chiama Edison Start e un concorso che ha riguardato le start up a cui hanno partecipato quasi un migliaio di start up, quindi tante, ne abbiamo selezionate tante e abbiamo visto questo, però abbiamo visto anche delle cose positive, quello che diceva lui, c'è la voglia di mettersi in gioco, di ascoltare, certo avevamo un team fortissimo che poteva aiutarli, per cui il premio vero non era solo il denaro, sempre 100 mila euro per ogni start up vincente, erano tre quelle che vincevano, insomma non sono soldi nella prima fase da buttare via, quello senz'altro interessava, però i primi 30 hanno potuto beneficiare di la consulenza dei manager della Edison, per cui si sono confrontati per l'organizzazione sulla parte del personale, per il marketing, con il direttore del marketing e con team del marketing della Edison, cioè di persone esperte, e accanto a questo oltre ai manager si sono potuti confrontare con la Bocconi che ci ha assistito, per cui c'era tutto un team della Bocconi che aiutava a costruire il business plan che credo sia una delle cose che mette più in difficoltà, specialmente gli ingegneri che non hanno proprio questa dimestichezza con i numeri, spesso e volte inventati completamente, di sana pianta, e poi col Politecnico abbiamo avuto una collaborazione proprio per cercare di aiutare questi progetti a diventare impresa, e ho delle slide però vi annoierei a farle vedere, ma gran parte di questi, siccome l'oggetto del tema sono le periferie, ora gran parte dei progetti venivano dalla Sicilia, dalle Puglie, dall'Emilia Romagna, da varie parti d'Italia in modo abbastanza distribuito, e il bello della tecnologia, come dicevi invece tu, è che noi li abbiamo mossi, li abbiamo portati a Milano, perché comunque si dovevano confrontare con altri, perché il tema è che chi vive in periferia a volte rischia di chiudersi un po' in se stesso, di perdere un po' di visione, ora uno dei trucchi delle start up per il successo è quello di essere scalabili, cioè di guardare a delle prospettive globali, quasi tutti, chi ha un progetto anche bellissimo al limite, ma quasi sempre nel 95% dei casi, di guardare sempre a un mercato che è un mercato, se va bene, nazionale, senza immaginarsi cosa che invece fanno tutti gli americani quando pensano a un nuovo progetto, immaginarsi a quale sviluppo può avere questo progetto in Europa, nel mondo, e quindi portarli a Milano, anche per portarli un attimo fuori dalla periferia, farli incontrare tra di loro e poi con esperti è servito anche a questo. E uno dei coach, una delle cose che più spesso ripetevano i nostri coach era appunto quello di avere il coraggio di mettere in discussione il progetto, cambiarlo e mettersi in discussione anche come team e cambiare il team, cioè è una delle cose che abbiamo fatto, è una piattaforma su cui tutte geolocalizzata, per cui tutti potevano vedere dove, voi potete vedere dove si trovano i vari progetti e c'è anche la possibilità di scambiare i team, per esempio perché se c'è qualcuno più forte su un aspetto e qualcuno meno forte sull'altro, questo può essere interessante, un po' come accade su alcuni siti per quanto riguarda le rock band o nel calcio, per la scuola di calcetto quando ti manca un giocatore all'ultimo minuto. Io penso che, adesso la metto sullo scherzo, ma io penso che se esistesse a livello di governo o comunque di associazioni che si occupano in qualche modo di digitale, si favorisse questo scambio culturale, questo scambio più che culturale, questo scambio di persone fisico. Poi mi tocchi un tasto, insomma torno anche sull'argomento di prima che stavi parlando perché sono papà di due figli, Giorgia sei anni e Mattias otto mesi. Quando citavi prima la RAI, quindi sicuramente uno strumento molto potente per la capacità che ha di penetrazione ancora oggi in Italia e in altre parti del mondo. Ma no, io la risposta la prendo io, cioè nel senso sono io il primo responsabile educatore di mia figlia, di miei figli nel corretto utilizzo di questi strumenti. Se non parte, se non parte, sì però, per esempio, ancora giustamente sono all'età molto molto, però è come per dire, la grande piazza di oggi, i social network, la grande piazza che molte volte si ha il terrore di andarci incontro dei genitori che mi dicono no, ma no, è mia figlia, è come se io mia figlia Giorgia lasciassi da sola in una piazza qui a Rimini, a 6, 10, 15 anni, senza averla accompagnato nel saper stare in quella piazza lì, non sostituirmi a lei nel togliere, fare esperienza e stare in una piazza, ma accompagnarla. Accompagnarla vuol dire, per me, essere con lei e capire quale sono, vista la mia esperienza, la mia conoscenza di quella piazza, quale possono essere le problematiche, le difficoltà. E quindi, tornando un po' al tema di prima, si ha quasi paura oggi di confrontarsi e dialogare con i nuovi strumenti, no? Questo accade anche nelle grosse aziende, c'è le grosse società come quella a cui tu rappresenti, oppure c'è un cambiamento in atto in cui le grosse aziende incominciano a dialogare, a creare un dialogo diretto col pubblico, non soltanto per rispondere a problematiche che l'azienda può avere, ma per migliorare in alcuni casi anche eventuali servizi che può un'azienda avere, perché non siamo tutti perfetti, quindi abbiamo delle imprese che sbagliano, hanno di bug i software, fanno degli errori. Come può essere la rete o gli strumenti di comunicazione attuale un'opportunità anche per aziende o imprese molto importanti e molto grandi come la tua, come quella che tu rappresenti? Purtroppo tieni conto che siamo un paese molto anziano, cioè fatto di anziani e devo dire che il mio bambino che ha 4 anni va davanti alle vetrine e fa così, quindi lui che insegna a me francamente e ha 4 anni. Il problema è che anche nelle aziende ci sono amministratori delegati anziani e quindi c'è una cultura di azienda, di organizzazione anziana. Io sono entrato, rispondo personalmente alla tua domanda, sono stato uno dei primi comunicatori e forse manager italiani a utilizzare Twitter e appena si è, dopo un anno se ne sono accorti o due credo, nell'azienda, quando se ne sono accorti hanno iniziato a vedere cosa scrivevi. Io fondamentalmente scrivevo cose che avevano poco a che fare con la Edison, ho sempre cercato e cerco tuttora di scrivere un po' di temi di mio interesse, utilizzo Twitter in modo del tutto personale, poi se c'è qualcosa che la Edison fa e che può essere interessante per tutti magari lo racconto. Però c'è stato un grande sospetto, critiche all'interno sul fatto che io utilizzassi questo strumento e sono stato senz'altro il primo della Edison e forse uno dei primi del gruppo IDEF in generale a utilizzarlo. In Francia ci sono state persone che hanno utilizzato Twitter per comunicare dall'interno incidenti alle centrali nucleari e questo ha creato, ripresi poi dai giornali, questo ha creato grandissima preoccupazione, per cui si sono messi ad analizzare il tema in modo molto approfondito e alla fine hanno capito che non potevano impedire l'utilizzo dei social network alle persone e quindi hanno iniziato a creare delle regole. Secondo me è giusto che ci siano delle regole, io me la sono data una regola, mi sembra effettivamente giusto che un operaio che lavora all'interno del centrale nucleare non si prenda di sua iniziativa, scriva su Twitter delle cose magari neanche troppo sicure, accertate, definite, credo che sia una responsabilità di altri, per cui fissare delle regole è giusto e quindi la Edison lo ha fatto già da diverso tempo, il gruppo IDEF lo ha già fatto e allo stesso tempo però si sono accorti che anche il sistema di comunicazione interna doveva cambiare, per cui la famosa intranet che tutti utilizzano inizia ad avere un aspetto, una faccia un po' diversa dove le persone oltre a poter usufruire di servizi possono effettivamente creare dei team, scambiarsi delle informazioni, chattare e quindi si va in una direzione molto più di comunicazione aperta e meno controllata e quindi anche un gruppo, noi apparteniamo al gruppo IDEF, quindi anche il gruppo elettrico più grande del mondo comincia ad aprirsi a queste cose capendo il valore aggiunto che può dare, ovviamente cedendo un po' di controllo, cioè fissi delle regole ma cedi un po' di controllo e questo è un po' il trend e se lo fa un'azienda che ha 50 centrali nucleari in Francia credo che lo possano fare tutti perché lì i temi sono veramente delicati. Grazie Andrea, grazie per il tuo contributo. Torno un attimo con te Miriam perché abbiamo visto diverse situazioni, oggi gli strumenti della comunicazione in particolar modo quella digitale sono tanti, tantissimi, abbiamo i social network con mille declinazioni, quindi Twitter, Facebook, Instagram e così via, abbiamo poi altri strumenti così tradizionali di comunicazione, in tutto questo grande quantità di strumenti, informazioni, cosa serve Miriam oggi? Perché bisogna mettere un po' di regola nella comunicazione, servono strategie di comunicazione, anche una PMI, un'azienda, un ente, una persona deve adottarsi di un metodo o no? Non continuiamo così a uscirne fuori, essere bombardati da tutto quello che sta accadendo e tutti gli strumenti che ci bombardano quotidianamente, cosa serve? Intanto serve capire che cosa ci serve, quindi dove troviamo le persone con cui vogliamo parlare, perché nel momento in cui, io naturalmente ragiono dal punto di vista del marketing, quindi in questo momento per me il digitale è uno degli, uno strumento di marketing, quindi il primo passaggio fondamentale è capire le persone con cui io come azienda voglio parlare, dove stanno? Le trovo su Instagram? Piuttosto che no, perché? Perché le trovo forse su Facebook e non sono così digitali, dunque io le troverò forse con un'email? Ecco, questi forse nella fase di analisi poi vengono chiariti, quindi il vero tema per tante aziende non è aprire più vetrine possibili, perché io dico facciamo un paragone con Facebook può essere la vetrina di un negozio, avete bisogno di una vetrina su Facebook, di una vetrina su Twitter, di una vetrina su Pinterest, di una vetrina su puntini puntini il prossimo social network, non è detto, bisogna vedere se poi nella via in cui questa vetrina sta ci sono le persone con cui volete dialogare, che possono essere il cliente finale piuttosto che anche un influencer, voglio dire, si sta in rete non solo per dialogare con chi comprerà poi il nostro prodotto, il servizio, l'esperienza che proponiamo, ma anche con chi lo può raccontare meglio, lo può valorizzare, pensiamo ai giornalisti, pensiamo ai blogger o comunque a chi ha un'influenza sulle scelte di altre persone. Quindi il vero tema è ragionare più che partendo dagli strumenti ancora una volta, partendo da dove stanno le persone e da che cosa vogliamo ottenere. Quindi non è l'avere il nuovo accessorio, ma è capire come effettivamente attivare una comunicazione efficace. L'ascoltare invece, quello deve essere assolutamente trasversale, perché adesso c'è questa consapevolezza, ma fino a qualche anno fa non c'era, del fatto che anche nel momento in cui l'azienda decide di stare zitta, o l'organizzazione, vale per un anno profit, vale per qualsiasi tipo di entità che diventi pubblica, ma anche per il singolo, perché sempre di più abbiamo un'identità in rete. Chi è che si cerca su Google per nome e cognome? Da volte uno solo, non ci credo. Troviamo delle cose di cui non arriviamo a conoscenza, a volte emergono i voti dell'università, emergono di tutto e di più. Per l'azienda succede lo stesso, anche se l'azienda stessa decide di non comunicare, di non avere un sito, di non avere una pagina Facebook, perché decide di no. L'ascolto invece è obbligatorio per tutti, perché? Perché nel frattempo, mentre io, azienda, che so di avere dei punti di debolezza, decido di non aprirmi per ora nei social network, perché so che andrei a aprire le porte a delle situazioni che non sarei in grado di gestire, beh, le persone comunque stanno parlando. E dietro ad ognuna di quelle conversazioni, di quelle recensioni, di quel contenuto che foto, video, o quello che c'è, c'è l'opportunità di migliorare il prodotto prima di tutto, cioè di migliorare quello che si dà. Quindi, mentre nella parte di attivazione, quindi di presenza attiva, è fondamentale una strategia, altrimenti è come aprire un punto vendita in una via X, perché lì? Perché tanto c'erano tutti, no? La pagina su Facebook. Nella parte dell'ascolto invece la strategia è quella di avere le orecchie, le antenne alzate davvero in maniera trasversale. C'è tutta una parte di nuova comunicazione, che è sempre più difficile da monitorare, che quella che passa da cose come WhatsApp, perché lo utilizziamo sempre di più, quindi sistemi di chat, di comunicazione, che non è web, che sta sotto, che passa in qualcosa che facciamo molta fatica a monitorare. E quindi ancora di più devo sapere chi sono Da un lato lì, per fortuna, perché se sto facendo un dialogo personale io e te, quindi non uno su molti, allora devi rimanere in un dialogo tra me e te. Ah, beh, sì. Sì, sennò... Le dico, purtroppo, perché mi metto dalla parte dell'agenda che comunque perdono delle informazioni, ma c'è una cosa che si chiama privacy, per cui vorrei anche vedere se tutto fosse... Tutto questo interscambio attraverso questi strumenti, non credi che ci sia il rischio di aumentare l'individualismo e quindi la chiusura del dialogo? Cittavamo prima, no? Quindi il discorso del co-working, il discorso di apertura, il discorso di ascolto. Molte volte mi è capitato, insomma, di sentire delle persone in cui attraverso gli strumenti o la comunicazione digitale vengo provocato, no? Dietro a questa provocazione poi che avviene in questo ambiente tendo sempre a chiedere un incontro reale. Ok, prendiamoci un caffè veramente, ne parliamo di persona. In questo caso quando è fattibile, quindi sto dialogando qui in un paese Italia. Ecco, lì ho notato più volte che c'è resistenza, no? Aspetta, non posso perché non ci possiamo vedere quindi lì ci si ferma un attimo e non c'è più quella voglia o quella volontà a confrontarci realmente. Non c'è il rischio che sempre di più attraverso questi strumenti e la comunicazione oggi crei nuove periferie? Allora, sicuramente c'è una nuova periferia che è quella del digital device, che non è solo tecnologico ma è soprattutto quello culturale, perché io posso avere un telefono ma non lo so che da qui mi posso anche, che non so, scaricare i referti medici, piuttosto che fare un sacco di altre cose che sarebbero utili a tante parti della popolazione anziana di cui parlava prima Brandi. Crea delle nuove periferie, dipende da come li usiamo, ancora una volta sono strumenti, le periferie le creo nel momento in cui li utilizzo soprattutto a livello personale come social network per dare una visione abbastanza parziale di quello che succede e non utilizzarli invece per conversare. Quello che invece fanno spessissimo, se utilizzati bene, come sempre è come avere una macchina, la posso utilizzare benissimo, oppure la posso utilizzare per correre a 350 all'ora e combinare tutto di più. Danno il loro meglio quando vengono utilizzati per generare relazioni positive. Mi capita spesso di incontrare di persona e nel mio modo di vedere rimane comunque una comunicazione più completa quella che puoi avere. Perché? Perché come esseri umani comunichiamo con molto di più che non sia la voce che non sia la vista e già insomma non tutto quello che passa dei social network è completo di questi due elementi. Mi capita spesso di incontrare persone che conosco online da mesi, da anni, però non ci siamo mai visti di persone. nel momento in cui ti incontri di persona capisci, uno, che la relazione che hai generato ha un valore altissimo. Perché decidi di investire e di trasformarla anche in un incontro personale. E due, che ti apre tantissime opportunità. Perché ho conosciuto persone che difficilmente avrei avuto modo di incontrare, se non perché nei social network siamo coincisi su un interesse comune, che non necessariamente quello professionale. Quindi ancora una volta sì, tanta parte delle conversazioni su Facebook, ma lo vediamo nel discutere di un caso di politica, è da un lato parlarsi addosso e dall'altro non mettere in campo relazioni profonde, vere. Ma io penso che queste stesse persone, cioè non è lo strumento che le cambia. Probabilmente è il loro modo di intendere qualsiasi tipo di relazione. Grazie, grazie di nuovo Miriam per il secondo intervento tuo, grazie. Simone, grazie di essere con noi, insomma ormai sono diversi anni che viene a prenderci tanti caffè insomma qui con noi al meeting. Sei consigliere delegato della Camera di Commercio degli Stati Uniti in Italia, so che segui anche lo sviluppo e la gestione della presenza degli Stati Uniti in Expo 2015, sei anche vicepresidente della Weber Sandwich, una delle società più importanti di public relation al mondo. Tu che hai questa posizione è comunque privilegiata, molto privilegiata perché dialoghi con grandi imprese, con i grossi imprenditori di tutto il mondo, dialoghi con i governi, Italia, Stati Uniti. Le periferie nostri zone, la crisi in sé, può aiutarci a ritornare a sapere chi siamo? Raccontaci anche nella tua posizione quale possono essere le visioni, cioè cosa potrebbe accadere nei prossimi anni, nel prossimo futuro, insomma con l'utilizzo di questi strumenti, con l'utilizzo della comunicazione, quanto sia oggi più che mai determinante per sviluppare la capacità, il know-how delle persone e anche delle imprese. Grazie Santiago e grazie a tutti anche dell'invito, al meeting eccetera. Sicuramente la crisi, le periferie stanno facendo tornare la comunicazione in tutti i modi al centro, comunicazione tra esseri umani, vera e propria, live, comunicazione digitale, tutto concorre a cercare di condividere il più possibile informazione e esperienze in modo che insieme si possa uscire da questa crisi. E quindi anche l'aspetto della comunicazione digitale sul quale tu ci hai invitato a discorrere ricopre un ruolo centrale. E io vorrei declinare questo ruolo centrale secondo, vedendo un attimo anche un esempio al quale tutti abbiamo assistito, che io mi sono un pochino studiato, che è quello di una campagna elettorale, anche per capire come in una campagna elettorale il ruolo della comunicazione digitale sia stato fondamentale e centrale e abbia raggiunto anche le periferie portando un messaggio che magari non sarebbe arrivato. E parlo di quella di Obama. Voi vi ricordate nel 2008 Obama con parole d'ordine come Hope, come Change, aveva vinto in maniera epocale, aveva portato lui che era un senatore sconosciuto, neanche poi così importante all'interno del Senato americano, una grande ventata di novità e soprattutto di innovazione per come aveva fatto la campagna elettorale. All'epoca lui aveva convinto alcune persone molto tecnologicamente avanzate, mi ricordo di Chris Hughes, che è stato uno dei cofondatori di Facebook, che aveva lasciato il suo incarico, aveva raggiunto Obama nel suo team e aveva poi inventato, quello che poi è diventato un esempio per tante altre campagne elettorali, un sito internet molto importante che era mybarackobama.com e grazie a questo sito c'è stato poi tutta una serie di evoluzioni che hanno consentito quella vittoria strepitosa. Nel 2012 questo esperimento si è ripetuto e si è ulteriormente evoluto, ma in una maniera impressionante. Il team di Obama già nel 2011, andando a guardare chi erano stati alcuni dei donatori nel 2008, la loro provenienza, hanno reclutato delle persone in tutta l'America, giovani, persone che venivano da Silicon Valley, che venivano dall'università, che venivano dalle professioni e li hanno invitati ad aggregarsi intorno a questo nuovo progetto tecnologico chiamato The Beast, la bestia, affinché si potesse dare una nuova forma, una nuova sostanza anche a una campagna elettorale che poi è diventata storica. Quindi hanno raggiunto persone in tutti gli Stati Uniti, ragazzi che sono stati anche invogliati a lasciare delle occupazioni anche meglio remunerate e hanno creato questa squadra. Questa squadra che si componeva di figure con titoli che probabilmente neanche in grandi aziende internazionali troviamo, neanche nella NASA e mi piace ricordarle alcuni di questi perché poi hanno fatto la storia. Nel team di Obama c'era un digital director, c'era un chief digital strategist, c'era un chief innovator integration officer, c'era un chief scientist eccetera eccetera. Cioè Obama grazie a un sistema di comunicazione, di persuasione, nuovi modelli, un predictive analytics, mettendo insieme tutti questi big data che vengono fuori dall'utilizzo anche dei social media, andando a prendere dati che sono ormai pubblici sul tuo profilo di Facebook, quello che scrivi su Twitter, le foto che condividi con Instagram eccetera, ha messo insieme un team potentissimo che è stato in grado poi di predire le intenzioni anche degli elettori e di adattare il suo modello elettorale, i suoi interventi e l'allocazione delle risorse che online recuperava rispetto a come il territorio americano reagiva agli input della sua campagna elettorale. Questo esperimento ha superato anche quello che di solito è il marketing commerciale, solitamente nelle campagne elettorali anche in Italia si prende un pochino dal marketing commerciale e lo si porta nella campagna elettorale. Berlusconi aveva cominciato vent'anni fa, è un po' un precursore in Italia con i sondaggi, i focus group, queste cose qua. Adesso con questa campagna elettorale di Obama, con le grandi evoluzioni che ha portato ormai il marketing politico ha superato il marketing commerciale, al punto che molte di queste persone che hanno lavorato in questo team sono poi uscite, chiaramente non hanno seguito Obama nella Casa Bianca e oggi siedono ai vertici di grandissime aziende tecnologiche o hanno fondato social di consulenza o start-up. Uno dei più importanti consiglieri di Obama oggi è vicepresidente di Uber, insomma una di queste società naturalmente importanti che sapete sul nuovo modo di prendere un taxi sostanzialmente. E tutto questo che cosa crea? E in un certo senso tira un po' in ballo anche l'assessore Valentina Prea, assessore all'istruzione, alla formazione al lavoro di Regione Lombardia. Crea due effetti tutto questo mondo digitale, della comunicazione digitale. Punto primo che sulle persone giovani, qua ce ne sono tanti, i cosiddetti millennial sostanzialmente, hanno una loro educazione semantica che discende, dipende in gran parte anche dall'uso che fanno delle tecnologie. Partiamo da vent'anni fa con i famosi emoticon, le faccine che erano nati in un'università americana per dare un po' una specie di, come si fa oggi in Italia con la pubblica amministrazione, sai il semaforo, sai il servizio, erano nati per dare un voto a uno studio, a una lezione di un professore eccetera, e poi si sono evoluti nella maniera in cui conosciamo. A come la comunicazione, l'internet ha modificato il nostro modo di parlare. Ci sono siti come Reddit o Tumblr che hanno dei linguaggi specifici per la loro community, ma noi oggi tutti noi utilizziamo la parola rituitare, like, friend eccetera eccetera in uso comune e le persone più giovani sicuramente di me lo fanno in maniera anche anche più forte. Quindi sicuramente c'è anche un tema di come aggiustare per le nostre scuole, la nostra formazione, il livello di preparazione anche dei nostri insegnanti affinché sia lo stesso che possono avere i ragazzi e che guardi nella loro stessa direzione, perché naturalmente il mondo andrà sempre più in quella direzione. Più saremo contaminati dalle nuove tecnologie, più anche il nostro modo oltre che di parlare anche di pensare verrà, cambierà e quindi anche la scuola deve fare uno sforzo, un salto in avanti per intercettare, anticipare queste tendenze. E poi dal lato invece del lavoro in America il cambiamento che la digitalizzazione sta portando sta prendendo un nome che è quello di second economy. Ormai c'è un'economia fisica, vera, normale, che tutti conosciamo e ora c'è anche un'economia molto forte che è l'economia digitale. Faccio un esempio banale, mi riferisco più che altro all'America perché lì questa tecnologia è più spinta. Vent'anni fa in America ma anche in Italia, se andava all'aeroporto ti presentavi al bancone, consegnavi il tuo passaporto, ti stampavano i biglietti, ti assegnavano il posto, ti spedivano il bagaglio, ti chiedevano cose sul menu eccetera eccetera, ti inserivano i punti della tua tesserina da frequent flyer. Oggi in America e anche in Italia in qualche aeroporto tu entri dentro senza parlare con nessuno, inserisci la tua tesserina in una macchinetta e in pochi secondi questa macchinetta parla con altre macchinette, parla con altri centri data, cioè i tuoi dati vengono in pochi secondi condivisi in tutto il mondo e tu hai il tuo biglietto, hai il tuo posto, ti vengono inseriti i punti, ti viene dato il pasto che vuoi, vengono le tue preferenze, vengono catalogati, i tuoi dati vengono analizzati, non sei un terrorista eccetera eccetera. Questo che cosa vuol dire? Ho fatto un esempio forse un pochino banale, però vuol dire che l'economia digitale cambierà anche la forza lavoro, molti posti vengono sostituiti dalle macchine, ma non soltanto le macchine automatiche, ma anche altri lavoratori, e quindi anche qua ci vuole, per chi fa politica e per chi si occupa di pensare anche alle persone quelle più periferiche, insomma ci vuole un ripensamento e un ridisegno di come la formazione che i nostri giovani e che tutti noi in qualche maniera prendiamo, alla quale siamo esposti, aiuti a riprogrammare i giovani e i lavoratori del futuro. Quindi la comunicazione digitale ha impatti fortissimi, sia sulle periferie, nella crisi, ma sicuramente è uno strumento necessario per stare a passo con i tempi e soprattutto per rimettere al centro alcune priorità, che in questo caso mi viene da dire sono quelle della formazione che sono necessarie per uscire poi dalla crisi. Sì, ci sono, prima citavi Uber, una start-up che sta un po' modificando i paradigmi di 50 anni del mercato, in questo caso dei taxi. Ci sono altre start-up come Airbnb che sta rivoluzionando per esempio il mondo degli affitti. Ci sono altre start-up che hanno rivoluzionato il mondo della fotografia, chi si ricorda di Kodak e oggi Kodak praticamente non c'è quasi più, insomma abbiamo Instagram, ci sono tanti altri strumenti. Ecco, tutto questo nuovo diciamo che avanza partendo dalle start-up, partendo da un'idea, partendo da un rispondere, da un reale, diverso rispetto a quello che esisteva oggi ad operando la tecnologia. Come queste grosse aziende, Simone, stanno reagendo? Come le grosse aziende che oggi si vengono messe in discussioni? Tutti, il modello di business, il modello di comunicare, di rapportarsi, stanno reagendo in questo cambiamento? Beh, tu hai citato Uber che sta portando una lotta vera e propria anche nel nostro sistema, gli shopperi eccetera, non solo. In America addirittura Uber sono già andati oltre. Esiste un altro sito che si chiama Relay Rides, dove tu puoi mettere in affitto la tua macchina personale. Cioè non è più semplicemente un taxi eccetera, adesso affitti pure la tua macchina. Quindi è la sharing economy che sta arrivando e si sta imponendo. Io penso che nei dieci anni precedenti l'abbiano fatta da padrone le nuove società digitali, le varie Facebook, Google eccetera, che hanno imposto un nuovo passo, un nuovo paradigma e hanno creato veramente grande lavoro, grande prospettiva. E questo rimarrà, ma penso che nei prossimi dieci anni, questo decennio ormai avviato, saranno le società, quelle tradizionali, quelle storiche, come anche la Edison di Andrea Prandi, eccetera, che faranno la gran parte della differenza nel mondo digitale. Perché sono quelle società che adotteranno un nuovo sistema di lavoro digitale che prima non era contemplato, facevi l'esempio anche di Twitter, per essere sempre più avanti. Un tempo in queste società la funzione IT, dell'information technology, era divisa dalla sezione di business, di marketing, eccetera. Oggi è tutto insieme perché si capisce... Sì, tra l'altro poi, un'esperienza personale fatta insieme, quando eravamo a casa madre in Silicon Valley da Twitter, l'età media, ti ricordi, la responsabile che ci ha seguito è una ragazza brasiliana di 26-27 anni. Assolutamente. Cose che nelle aziende, insomma, di grosse aziende, incontrare un maggior responsabile di tutto un comparto internazionale, 26enne o 25, un nuovo laureato sostanzialmente, o comunque con un master, qui da noi si fa veramente fatica oggi. Ma guarda, come direbbero i sociologi, c'è un'inversione dell'accumulo della conoscenza. Oggi più giovane sei, più sai. Un tempo, almeno anche nella mia generazione, era più anziano, più esperienza, più saggio. Oggi più giovane sei, più sai perché sei più abile nell'andare su internet o usare questi social media, eccetera, e sai tutto prima. Quindi io credo che per i nostri giovani e soprattutto questi migliaia di giovani che io vedo al meeting ogni anno, grazie a Santiago che ci vengo, sono impressionato, cioè il futuro sia veramente a portata di click. Perché veramente oggi, grazie alle tecnologie digitali, puoi connetterti, l'hai detto benissimo anche tu, con il mondo, con opportunità, eccetera, eccetera. Quindi l'uscita dalla crisi ci può essere, ci vuole di pari passo anche una struttura, come uno Stato, come un'organizzazione regionale, eccetera, che ti accompagni nella maniera migliore, perché non tutti, il digital divide, queste cose qua, hanno questa opportunità. Però credo che siamo sicuramente noi italiani ben attrezzati per cercare di rispondere a questa grande sfida e per dare un'opportunità a tutti, anche a quelli che non sono così privilegiati come noi, che la possono vivere con più facilità. Grazie Simone, grazie per il tuo contributo. Grazie a voi per l'ascolto. Ci vediamo domani per un altro caffè dove affronteremo il tema digitale in pieno, quindi con altri amici e altri ospiti. Grazie, a domani.